Io sono uno dei pochi e posso vantare che i miei pazienti, quelli che mi seguono, non muoiono di malattia ma muoiono per fine vita. I miei pazienti sono stracontenti della mia posizione, altrimenti non potrei avere il massimale dei pazienti. Scusi, ma la signora è di 91 anni, è vero che l'ha detto non fartelo? Io assolutamente no, perché io non dico mai non fartelo, queste espressioni non le uso. Nel mio studio medico, su Nelle e Bacheche c'è il foglietto illustrativo dei vaccini perché mi debbono firmare il consenso informato e quindi io prima li informo sulla vaccinazione e gli faccio leggere il foglietto illustrativo. Dopodiché se mi firmano il consenso informato gli faccio la vaccinazione, se non lo firmano non effettua la vaccinazione. Il suo collega diceva che lei all'inizio non credeva neanche al Covid, dice che era una messa in scema. Smentisce anche questo collega suo. Ma io non capisco che è questo collega perché a me non risulta una cosa del genere. Io non uso questo linguaggio perché io sempre...